Una forma alta. Sono abulico, vivo continuamente la carenza della mia volontà. Sono incapace di incominciare ma anche di proseguire un'azione, anche se non c'è nulla che possa impedirmelo. Da quando ho perso entrambi i genitori sono inerte, passivo, apatico, non so reagire alla loro mancanza. Perché? Perché la legge, con la morte prematura dei tuoi genitori, ha usato una forma alta di comunicazione con la tua coscienza, a cui tu finora non hai saputo rispondere adeguatamente. Infatti, essendo abulico, rispondi nella maniera evolutivamente peggiore al tuo lutto, che era l'esperienza più giusta in questo periodo del tuo sentire. Poi capirai, anche se non comprenderai, che ogni dolore per essere pienamente evolutivo deve essere accettato e mai rifiutato.